Spesso, eccetera, suvecchiamo il sistema di cazzo, sono proprio bello. Mi piace il mio nome, no? 5, 4, 3. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, ed è il primo con la X-Pro. No no, mas quello che vuole a Pupp沢 Rodsfajr! Secondo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.